Mazda rilancia come tema codo design pluripremiato il nuovo concept di un crossover SUV magari anticipa le linee del nuovo CX-5 ma lo sappiamo, speriamo, cerchi da 21 pollici molto belli di fanali anteriori con, vedete, questa linea a lente che va a unirsi alla calandra con il classico family feeling Mazda, ovviamente non è possibile visionarlo all'interno ma speriamo che il CX-5 prenda questo linee molto finale, molto ammessibile e bello Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti